Ciao, sono Sofia Di Zegos, e oggi condividerò con voi un'analisi sui mercati finanziari elaborata dal nostro ufficio studi. Se apprezzi i nostri contenuti ti invito ad iscriverti al canale e lasciare un like. Asbro Downgrade di Redburn In pillole i motivi, valutazione elevata, Apple ha avuto un anno eccezionale nel 2023, con un aumento del valore delle sue azioni di oltre il 48%. Tuttavia, questa crescita ha portato le azioni Apple a essere negoziate con un premio di oltre il 20%, secondo Redburn. Prospettive limitate di crescita L'analista James Codwell ha declassato le azioni da acquista a neutrale mantenendo un target di prezzo di 200 dollari per la fine del 2024, che implica solo un potenziale di crescita dell'8%. Codwell prevede che, nonostante un possibile ritorno alla crescita per iPhone nel Cipsium 24, ci sarà poco spazio per un ulteriore aumento nei prossimi anni. Rischi regolamentari C'è una crescente preoccupazione per i rischi regolamentari che potrebbero influenzare la capacità di Apple di monetizzare il suo ecosistema. Questi rischi includono l'attenzione normativa su accordi come quello tra Apple e Google, dove Google paga per essere il motore di ricerca predefinito su iPhone. Concorrenza in aumento Dipendenza da entrate specifiche Circa il 40% del profitto operativo del settore e servizi di Apple deriva dai pagamenti di Google per essere il motore di ricerca predefinito su iPhone. L'implicazione in questo accordo di Alphabet, Google in un caso antitrust portato dal Dipartimento di Giustizia statunitense, crea incertezze sulla sicurezza a lungo termine di questo flusso di entrate. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale. Per maggiori informazioni visita il sito www.zegosonline.com oppure se vuoi ricevere i nostri servizi in prova gratuita per un mese scrivi a info-lazegos.com Zegos offre solo servizi informativi ed analitici sui mercati finanziari, non esercita in alcuna forma l'attività di consulenza personalizzata in materia di investimenti. Grazie a tutti!